Sì città, la regione Piemonte ha richiesto lo stato di emergenza per l'intero territorio e lo stato di calamità per l'agricoltura e attende ora il decreto del governo in tempi rapidi. La richiesta è stata decisa nel corso dell'insediamento del tavolo permanente voluto dalla regione per monitorare e affrontare la situazione di emergenza. Intanto sono oltre 250 i comuni piemontesi che hanno emesso o stanno per emanare ordinanze relative all'emergenza idrica e per un uso responsabile dell'acqua. 83 nelle province di Novara e Vico, 9 in quelle di Biella e Vercelli, 93 in provincia di Torino, 9 nel Cunese, 58 in provincia di Alessandria. La crisi idrica risulta particolarmente grave per gli agricoltori, per questo l'approvazione dello stato di calamità consentirebbe di agire in tutela del comparto per evitare il prolungamento dei danni. Intanto i concessionari dei bacini idroelettrici hanno dato alla regione la disponibilità a rilasciare per l'agricoltura circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua al giorno. E' di 10,7 milioni di euro il riparto del Fondo per la Montagna approvato dalla Giunta regionale per il 2022. Le risorse saranno ripartite tra le unioni montane. Il 66% suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla superficie come contributo alle spese di funzionamento. Il 28,6% come contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate. Il 5,3% al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna. E la Regione Piemonte finanzia anche quest'anno con 540 mila euro i servizi scolastici nei territori montani. Il contributo erogato dalla Regione intende sostenere le iniziative volte al mantenimento delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità che renderebbero disagevole la frequenza scolastica in caso di cessazione del servizio e la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse. La delibera prevede inoltre che i programmi didattici presentati dalle unioni montane dovranno essere redatti tenendo conto di alcuni fattori. Presenza in zona di altri istituti scolastici completi di servizi e tempi necessari per raggiungerli. Garantire il diritto all'istruzione nelle situazioni di particolare criticità, situazioni di pluriclasse dove siano documentabili realtà di particolare a disagio. Via Francigena Forol è il nome del bando vinto dalla Regione Piemonte che mette a disposizione 1,6 milioni di euro di fondi statali per rimettere a nuovo strutture e percorsi della millenaria porta d'ingresso dei viandanti verso la pianura padana. La fase operativa entra subito nel vivo con l'apertura dei cantieri lungo i 250 chilometri piemontesi che attraversano 4 parchi naturali e 47 comuni. In particolare le risorse serviranno a migliorare l'accessibilità dei servizi turistici e dei beni culturali e religiosi su 36 chilometri di tracciato. Il tutto affiancato da un'indagine esplorativa sul grado di raggiungibilità delle strutture ricettive da parte delle persone con disabilità. Sarà anche effettuata la mappatura completa del percorso come nei due tratti Canavesano e Valsusino, operazione che servirà a restituire alla comunità 20 luoghi culturali per 365 giorni l'anno. Saranno anche attivati tirocini lavorativi rivolti a soggetti disabili presso le strutture di accoglienza e presso gli uffici di informazione lungo l'itinerario della via francigena. Importanti novità per il servizio ferroviario del Piemonte contenute nel prossimo contratto di servizio con Trenitalia. Allo scopo di salvaguardare i servizi esistenti, la regione ha aggiunto 200 milioni di euro per i prossimi 10 anni in modo che non vengano operati tagli per ragioni economiche. Si restituisce così una prospettiva al Piemonte, aumento dei cittadini serviti, miglioramento dei servizi prioritari, rapido rinnovamento dei treni. Anche il servizio ferroviario regionale infatti potrà contare su 24 treni pop e 9 rock dal 2023. Alla luce dei cambiamenti nelle abitudini di mobilità durante l'emergenza sanitaria si è deciso di mantenere stabile la quantità di chilometri prevista dal contratto con Trenitalia spalmandola su linee e orari differenti, ma mantenendo invariato il servizio nei giorni feriali quando la richiesta è più forte. E hanno preso il via quattro nuove corse nei fine settimana del treno mare tra Piemonte ed Emilia Romagna. Da settembre circoleranno quattro nuovi treni Biella-Turino e due treni Asti-Milano. Nel settembre 2023 verranno riaperte la Casale Mortara e la Asti-Alba, mentre per la arrivazione tramite fondi europei.